Ancora ben trovati dalla redazione di Ciranz Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibile disagina 1 per presenza di personale su strada tra Rocco Bilaccio e Calenzano nelle due direzioni e per veicolo fermo o in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci. Con riguardo alla cantieristica per lavori straordinari per adeguamento funzionale segneremo la chiusura delle aree di sosta all'altezza dei chilometri 42,5, 55, 64 e 70. Ci spostiamo sulla SP11 Pisana per Fucecchio per lavori di potatura delle alberature. È previsto senso unico alternato tra il chilometro 4,5 e il chilometro 8,5 nel comune di Cerreto Guidi. Provedimento in vigore da domani 6 febbraio fino al 6 aprile. Prima di salutarci per il traffico navale, il traghetto Piombino-Cavo delle 12.20 quest'oggi è cancellato. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.